La politica, completiamo la serie di interviste ai candidati al seggio al Senato alle elezioni suppletive dell'8 marzo, questa volta intervistiamo Armida Gargani, avvocato, candidata con la lista a riconquistare l'Italia. Sovranisti ma strano i difensori della Costituzione, come? Siamo strani i sostenitori della Costituzione nel testo originario, quello del 1948, dove lo Stato controllava attentamente il territorio e anche gli antilocali. Voi siete per un ruolo forte dello Stato? Assolutamente sì, tenendo conto che nella situazione attuale è impossibile controllare un mondo così complesso. Le risorse dello Stato, la fiscalità, come a vostro modo di vedere? La fiscalità è ex articolo 53 della Costituzione, cioè la progressività e non idee stile flat tax. Il lavoro dipendente è uno dei temi forti della vostra campagna elettorale? Noi siamo per il salario minimo, lotta che stanno facendo anche gli americani. Torniamo ai tempi di Giuseppe Di Vittorio. Rifiuto della scuola azienda, dell'autonomia scolastica, ritorno a una scuola pubblica e legata molto a una visione di formazione creativa? Ma la scuola dovrebbe insegnare ai cittadini a pensare. Al lavoro poi i cittadini provvederanno ad imparare. Un appello al voto. È chiaro che se sono qui desidero fortemente essere votata, anche perché sono in totale discontinuità con gli altri tre candidati.